Sovraffollamento carceri Strasburgo strilla l'Italia. La Corte Europea ha infatti condannato il nostro paese in quanto colpevole di violare i diritti dei detenuti, tenendoli in celle dove hanno a disposizione meno di 3 metri quadrati. Un trattamento inumano e degradante che ha visto sette carcerati della casa circondariale di Busta, Arsizio e Piacenza a ribellarsi, ottenendo il diritto ad essere risarciti per danni morali per un ammontare totale di 100.000 euro. Una doccia fredda per il bel paese che se non corre ai ripari potrebbe dover arrivare a pagare cifre enormi. In ogni istituto penitenziario, anche a Lucca e a San Giorgio, ci sono minimo 100 detenuti in più rispetto al limite stabilito. Nella sentenza la Corte invita l'Italia a porre rimedio entro un anno al sovraffollamento, prevedendo anche pene alternative al carcere. I magistrati di Strasburgo domandano inoltre al nostro paese di dotarsi sempre entro un anno di un sistema di ricorso interno, chiede a modo ai detenuti di rivolgersi ai tribunali per denunciare le loro condizioni di vita nelle prigioni e avere un risarcimento quando i loro diritti vengono violati. Una bella notizia anche per gli agenti della penitenziaria, che forse potrebbero iniziare a lavorare in condizioni dignitose. Ma se finora, nonostante le tante grida di allarme non è stato fatto niente, come può in 12 mesi il nostro paese svuotare le carceri. Gli scenari forse potrebbero essere più drammatici rispetto a quello di ricevere sanzioni.